Attacca Pippo! Si Pippo! Torna apri torna! Pippo prendi posizione! Pippo! Si riesce si gioca con Fili Se no no segna! Non due lo stesso movimento Di qua di qua di qua Andi ci vai a! Andi ci vai a! Dai facci eh! Dai proveri in fare! Giocare a Matteo là! Chi stia muoviti! Chi stia muoviti! Dai facci arrivaci! Buone buone buone! Chi stia! Dai dai dai! Zavanza che ci diamo! Ehi sta rendo! Dai Stefano! Ma te ricevi tu! Si dà! Tu ci scappi stanno! Magari si riceve! Facci! Uno due! Esci di là! Dai Matteo un po' più preciso! Dai! Dai! Troppo lunga sta parte! Dai Stefano! Dai Stefano! Filippo! 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 Dura eh! Filippo! Filippo dietro a nove! Filippo! Filippo! Forza a Matteo! Forza a Matteo! Sinistra! Filippo! Filippo! تيremo una volta! Bravo! Al due contro uno via! Subito! Bravo! 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 Sì. Vieni veloce! serve! Sì! Vieni un attimo! Bello! Mi puoi fare qua! Sì! Dai l'ATI ancora! Veloce stai, attenzione, dai ma attenzia, dai Clicco, bravo stai, bravo Pippo, gaccia, gaccia, bravo Filippo, adesso ritorni, bene, bravo Pippone, ancora di più Pippo, ancora di più, ok, va bene. Torna, torna dappi, ok Yas, grande Yas, ancora Yas, bravo Yas, bravo Yas, confini eh, se c'è spazio confini, confini se c'è spazio, si confini, attacca, attacca il Clicco, uno solo, uno avanti, dai Clicco, si, passimo, Vieni, bravi, bravi, vieni, bravi, vieni, bravi, vieni, fai falci eh, solo davanti al pallone, non guardi saltare, vai davanti, vieni, 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 calma, calma, va, largati, largati, per palazzo, lascia, lascia rubare, riceve, riceve il fil di suonatore, quella lì che la prendiamo guarda Stefano vai a cittadino non giocare in difesa Stefano c'è? guarda Cristia vai via Cristia dai Matteo fatti vedere è la terza Cristia che passa attenzione dietro Matteo viene che sono due guarda di là taglierà Stefano aspetta Stefano Matti Filippo vieni a ricevere Matteo veloce Stefano vai Gli atta accorcia mette la moviola guarda Stefano guarda Stefano bello attenzione Anticipa stiamo attenti Lappe stiamo dietro di te Cristia ti sei fermato lasciala Cristia ancora non hai toccato la parte vai avanti Gritto dai forza vai vai guarda dove è lo spazio libero ti interisci quando riceve l'esterno Cristia attenzione da P ancora è buona veloce veloce bravo bravo Cristia vai va bene Matteo oh Cristia meno forte quella parte vai Matteo vai in mezzo Matteo col sinistro devo andare Matteo stiamo facendo la coda calmo allarga Stefano attenzione va bene tranquillo con l'interno si passa la palla è prima è sulla corsa occhio la pelle Filippo Filippo bravo giocherà calmo calmo no torno Pippo bravissimo Pippo non deve passare Stefanino tu a Matteo bravi bravi bravo Matteo rimani là Matteo rimani là Matteo rimani là esci Matteo dai barriera sembra barriera Pippo un po' più avanti dai Stefano Stefano non servi là Stefano stiamo attenti stiamo attenti dai forza possono prendere prendere anche i difensori quando rimbalzo così no calma calma Matteo calma stiamo attenti stiamo attenti dai Matteo va bene fai battere dai dai Stefano attenzione uno che entra dai dai calma dai che c'è Yas c'è Yas fai via guarda Christian dai Christian gioca là ma gioca la terra la palla Christian dai 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 forza Matteo occhio ya mamma Cristia calma è tua Pippo vai niente dai forza proteggi la palla vieni Cristia vieni Cristia ok veloce Pippo guarda Stefano che entra dai se buona stai buona Filippo che fai lì? Filippo cosa fai lì? Filippo la che c'è? va bene va bene vieni largo uno ya c'è ya c'è dura eh dai so bravo ya Matteo lape dai veloce uno due uno due ma vai a calciare tu sei forza quando ci giochiamo Matteo bravo Stefano stai giocando bene bravo attenzione che è andato eh dai Filippo via sta male Cristia fatti vedere veloce lape c'è lape c'è al futuro alzate stai fico dietro dietro punto punto me scazza ancora eh Filippo ci vuole molto per arrivare? no ditelo ci vuole molto? via Filippo via Filippo bravissimo bravissimo se gliela giochi se gliela giochi sempre sto va bene Filippo bravo torna Pippo corri nel Pippo bravo Stef va bene dai Bindi dai forza attenzione Filippo Filippo vicino sono due Cristia vai via vai via Stefano tu gliela giochi ne hai tre mamma Cristia mamma Cristia attenzione occhio Matteo Cristia ne avevi quattro Filippo devi tornare Filippo devi tornare deve uscire Cristia se si muove Stefano Stefano bravo Pippone piglia che è tua dagliela a Cristia a Pippo 32 minuti Filippo dai Matteo dai dai Matteo tempo resti stiamo a destra stai via sta palla veloce veloce oh ragazzi che te ne scappa Marte Filippo Stefano devi entrare veloce Matteo veloce Matteo guarda Stefano calma Iassi gioca da largo punto ciste va bene aiutalo Matteo aiutalo veloce c'è veloce c'è fermo Iassi un po' vicino a Iassi tecnico guarda c'è anticipa Iassi dai Matteo dai Matteo dai torniamo torniamo posizione Matteo centrale occhio Stefano bravo Pippo va bene bravo Matteo vieni centrale lascia Iassi sei centrocampista centrale è tua è tua mia Iassi c'è dai forza Iassi vieni incontro in mezzo in mezzo va bene è Cristian torna Filippo veloce veloce aspetta che raggiunga vai uscire Cristian corri corri Cristian torna Filippo grande Iassi portale raggiù dai bravo 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 Pippo bravo Cristian bravo te fermo Iassi grande Iassi batte Filippo oh l'ape guarda lì eh sì adesso arriva bravi dai Matteo bravo va bene dai dai caccia più pulita sta palla vai che buona dai tolla Filippo dai occhio Ste Cristian pronto forza Gricco attenzione Stefano bravo Stefani gioca la Iassi largo gioca la Iassi largo oh signore muoviti Cristian attenzione accendo Filippo bravo Iassi grande Iassi no attacca Cristian attacca veloce guarda la palla guarda la palla guarda la palla va bene stiamo attenti Stefano Matteo avanza Matteo avanza lascia giocare se ne vanno non è una marcatura questa non è una marcatura devi proteggere la porta devi proteggere veloce Cristian bravo lascia la Filippo va bene dai dai attenzione stiamo attenti vieni veloce Cristian vi facciamo dai dai venite dai 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 bombe dura dura dai 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 Grazie.